benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e vi do il benvenuto a questo webinar che facciamo oggi analisi dei mercati trading in real time e didattica only in one con Antonio Landolfi ciao Antonio ciao Alan buongiorno e ovviamente buongiorno a tutti gli amici di WeBank allora Antonio di che cosa parliamo oggi perché devono vedere questo webinar beh innanzitutto perché almeno fanno un'opera buona nei nostri confronti e poi soprattutto perché comunque in ogni caso c'è una situazione interessante sui mercati e soprattutto su alcuni titoli italiani espressamente sui titoli elettrici forse non c'è proprio una situazione bellissima perfetto allora questo è un webinar ehm didattico anche cioè oltre a eh vedere le configurazioni Antonio Landolfi ci spiegherà l'analisi tecnica da applicare ai titoli quindi vi invito a vederlo questi invece sono i miei recapiti sono Alan Vincenzo Gendusa se volete contattarmi al 347-2803-056 oppure per email ad alanvincenzo.gendusa-promotori.bancobpm.it se volete diventare clienti del gruppo Banco BPM attraverso il conto WeBank mi raccomando dovete inserire questo codice promotore PF5218 nell'adesione online con questo codice avrete l'assistenza diretta del trading team di cui faccio parte io e se siete eh allievi o comunque seguaci di Antonio Landolfi avete delle condizioni privilegiate quindi contattatemi eh potete prendere visione di questo webinar cliccando sul link in sovrimpressione e vi invito comunque a registrarvi ai nostri webinar totalmente gratuiti eh andando sul sito WeBank.it in alto a destra eventi e corsi e vi registrate. Buona visione con Antonio Landolfi.